Se riscontri problemi riguardo all'Unreal Crash Process su Silent Hill 2 vuol dire che tu stai avviando il gioco in una modalità di rendering troppo avanzata e quindi ti permetterà anche di crashare durante le partite anche con la grafica alta quindi in questo caso possiamo avviare il gioco nella versione DirectX 9 o versione DirectX 11 grazie anche all'assistenza che ci offre Steam come puoi vedere attraverso le opzioni di avvio quindi come funziona? Andiamo direttamente su Steam, andiamo direttamente sul nostro gioco Silent Hill 2 e vai direttamente sulla rotella qua vai su proprietà e vai su collegamento che sarebbe per te generali, opzioni di avvio per avviare il gioco in questa modalità come puoi vedere i nostri giochi non supportano più DirectX 7 che sarebbe Trattino DX Level 70 modalità di rendering DirectX 9, 10 e 11 quindi noi andremo così a inserire la modalità di rendering Trattino DX Level 98 e la inseriamo qua come opzioni di avvio oppure se ricevi ancora problemi con questa versione qua puoi semplicemente aggiungere quella della versione DirectX 8 o DirectX 9 semplice questa qua se invece è un problema di driver obsoleti perché il problema del crash di Unreal è proprio per i driver sulla tua scheda video che li tieni obsoleti quindi non funzionano bene sul gioco quindi puoi scaricare e installare la versione di Nvidia App che ti permette di configurare la tua scheda e configurare anche la grafica sui tuoi giochi di Nvidia App scarichi e installi così la beta per la scheda grafica Nvidia quindi vado direttamente su Nvidia vado su Driver qui cerco se devo fare qualche aggiornamento Drive Game Ready scarico e installo su Drive Game Ready Grafica puoi configurare così la grafica sui tuoi giochi anche su Silent Hill 2 tipo per esempio prendo un gioco così a caso metto il pallino fino a qua su prestazioni aumento gli FPS sul gioco e non avrò più problemi di crash o problemi di lag invece qua installi direttamente un driver grafico completo sul tuo computer proprio per farti vedere installazione applicazioni cerco così l'applicazione eccolo qua Nvidia quindi vado su Driver ed eccolo qua driver grafico proprio completo installato il 3 di ottobre non ho più problemi di crash o problemi di lag o altri problemi di Unreal e altri crash del genere quindi ti consiglio di scaricare e installare il driver grafico metti così la tua scheda video trova l'aggiornamento da fare su vedi scarica e installa questo qua di driver geforce game ready per il giocatore e questo qua invece per chi usa il computer per lavorare ultimo aggiornamento rilasciato del primo di ottobre ora non mi resta che avviare il gioco lo posso anche avviare come amministratore quindi faccio esegui come amministratore e avvio il gioco Silent Hill 2 Grazie a tutti quindi eccolo qua vado su impostazioni vedi se anche devi abbassare la grafica sul gioco quindi non te lo giocare in modalità ray tracing troppo ultra se la tua scheda non lo sopporta quindi ti consiglio di abbassare tutta la le impostazioni di qualità avanzate e su scalabilità risoluzione se metti 200% vedrai il gioco una meraviglia però potresti anche avere problemi di crash quindi ti consiglio di metterlo sul 75% tutto medio basso e basta per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao grazie a tutti